Raffaella Paeta, lei continua a girare il territorio dell'intera Liguria per questa candidatura alle primarie per la presidenza della regione del centro-sinistra. Allora intanto qual è il polso della situazione intorno al PD e non solo che lei sta considerando sul territorio quello che ha potuto avere come riprova? Io in realtà il territorio l'ho girato da amministratrice tutta la Liguria, l'ho fatto in tempi non sospetti quando non ero candidata a nulla e semplicemente facevo il mio lavoro di assessore come lo interpreto io e cioè come un ruolo che deve essere un ruolo molto testato sul territorio che non esiste il modo di comprendere una realtà difficile come l'entroterra se non la visiti, se non la vivi fino in fondo e quindi ora sto semplicemente riproducendo la costante e il metodo che è quello che ho cercato di darmi in questi anni tant'è che nessuno si stupisce che io sia in giro perché lo considerano più che altro uno stile di governo quello che il Presidente Burlando ci ha anche chiesto di portare avanti in questi anni chiedendoci esplicitamente di stare sempre meno seduti sulla sedia di Palazzo dei Ferrari e invece di andare in giro a cercare di raccogliere il polso della situazione, le istanze di un territorio che ha bisogno di noi e che non può essere il territorio a venire in Regione Liguria ma dobbiamo essere noi invece a visitare i comuni e a cercare delle soluzioni ai piccoli e grandi problemi che hanno. Il polso è un polso positivo, diciamo che ci viene riconosciuta quasi unanimemente questa grande sintonia con l'entroterra questa grande sintonia con il territorio e anche una certa credibilità e serietà nell'approccio dei problemi poi ci saranno le elezioni primarie e si confronteranno diversi punti di vista il mio diciamo è abbastanza conosciuto perché io mi sono candidata per prima e l'ho fatto al di fuori di Logiche di Palazzo, l'ho fatto al di fuori di Accordicchi l'ho fatto come dire nello stile di una persona che pensa che se i cittadini in questo momento sono messi nella condizione di scegliere e di valutare candidature danno anche al Partito Democratico, al centro-sinistra una grande occasione di arricchimento e di crescita ecco io credo nelle primarie, credo profondamente nello strumento delle primarie e credo alle primarie come una grande festa del Partito Democratico dove si confrontano i dei punti di vista e poi tutti insieme a vincere contro il centro-destra e contro il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali Anata Chini si occupa del servizio bambini a 20 miglia, altre delle attività del Faggio della cooperativa del Faggio, di che cosa si occupa questo servizio, che difficoltà avete attraversato? Allora noi abbiamo una struttura che si chiama Centro Servizi per l'infanzia, la casa dei bambini di 20 miglia all'interno abbiamo tre tipologie di servizio, due dedicate dai bambini di 3 mesi ai 3 anni e un servizio ludoteca dai 3 anni agli 11 anni e d'estate ci occupiamo della scuola estiva e oggi abbiamo portato una rappresentanza dei bambini della scuola estiva La nostra è un'attività educativa, didattica, tra le varie difficoltà perché ne abbiamo avute parecchi come tutti i servizi della prima infanzia e quella di aver avuto una maggior carenza di utenza quindi di famiglie che chiedevano la possibilità di portare i bambini al nido e questo è perché purtroppo la crisi incombe per tutti e quindi anche per le famiglie e diciamo che siamo sofferenti e abbiamo dei posti vacanti, dei posti vuoti C'è una collaborazione stretta fra il pubblico e anche il privato sociale questo vale anche per il settore dell'assistenza psichiatrica? Vale anche per l'assistenza psichiatrica soprattutto nei confronti dei trattamenti residenziali In particolare la collaborazione con la cooperativa Il Faggio nasce ormai da moltissimi anni eravamo nel 1986 ed è stata stretta questa collaborazione proprio in ragione della necessità di dimettere dagli ospedali psichiatrici un numero consistente di pazienti che in quell'occasione appunto la ricerca di una struttura ma anche di una forma di collaborazione mista diciamo pubblico privato e aveva trovato questa soluzione nella struttura del Cicalotto Poi la collaborazione è andata avanti ovviamente non sono più stati soltanto i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici ma anche pazienti in carico ai servizi del dipartimento che hanno potuto accedere a dei trattamenti residenziali in questa forma Ma come va questo servizio? Che criticità ci sono? Allora il servizio diciamo intanto inquadriamo il servizio in quest'immobile c'è un RP quindi una struttura per anziani psichiatrici e un RSAP che è una residenza sanitaria assistita sempre per pazienti psichiatrici e all'ultimo piano c'è un modulo per il trattamento delle dipendenze patologiche il servizio diciamo l'RP e l'RSAP sono due servizi avviati da tempo in questi anni l'utenza è un po' cambiata diciamo che siamo partiti come Cicalotto con i pazienti diciamo dimessi dall'ex OP adesso ci sono anche giovani pazienti psichiatrici il modulo delle dipendenze ha vita diciamo da un anno e siamo partiti con il trattamento specializzato breve dell'alcolismo e poi anche sull'esigenza diciamo delle nuove dipendenze comportamentali abbiamo cominciato anche il trattamento dei pazienti con problemi di gioco d'azzardo e dipendenza da cocaina grazie grazie grazie